Adesso la spiaggia era deserta anche la domenica, ma noi andavamo lo stesso a guardare il mare. Ma se adesso vissi un signore che tenesse 10.000 lire, lo faresti in bagno? Io sì. Ce ne andiamo? No, andiamo. Andiamo a vedere il giudizio che avvisca. Andiamo, Riccardo. Ah, sai a chi somiglia a Leopoldo? Al parro. Sì, è vero. Sì, è vero.